Giudice, quando parliamo di Corte Costituzionale ovviamente parliamo anche di Costituzione, la Carta Fondamentale della Repubblica che è stata anche oggetto di un referendum circa un anno fa che ha visto una grande partecipazione popolare, segno che i cittadini comunque riconoscono l'importanza di questo documento, a maggior ragione oggi in un periodo di difficoltà economiche è importante che anche nelle scuole si conosca sempre più questo documento fondamentale oggi è per spiegare la Corte Costituzionale ma comunque è un organo essenziale della Costituzione. Sì, sono lietissimo di questa occasione e mi ricordo le parole di un grande padre costituente rivolto ai giovani, un'epoca un po' successiva, lui diceva a Calamandria dei Gioni, dice ricordatevi che dietro ogni articolo della Costituzione ci sono altri giovani che hanno dato la vita per lasciare scritte su questa carta i valori di eguaglianza, solidarietà e giustizia. Purtroppo la generazione di mezzo ha un po' smarrito questi valori, anzi li pratica forse in contrario perché al posto dell'eguaglianza c'è la discriminazione, al posto della solidarietà c'è l'egoismo e quindi l'auspicio è che rileggendo la carta, noi custodi della carta giudici costituzionale con i giovani riusciamo a trasmettere il valore di questi valori, diciamo, la bellezza di questi valori perché possono essere i nuovi giovani a richiamarli in vita per una collettività migliore di quella che attualmente stiamo vivendo. Proprio Calamantre diceva che comunque la Costituzione non è una cosa che fissa delle cose ma è in continua evoluzione e proprio i giovani dovrebbero partecipare alla vita politica alle decisioni per farle evolvere, traccia un avvenire, diciamo, diceva. L'attualità della Costituzione sta proprio in questo, che la nostra Costituzione ha come valore principale la dignità della persona e tutto ciò che di volta in volta col passare del tempo diventa indispensabile per la dignità della persona viene automaticamente assurdo a livello di diritto fondamentale e inviolabile, quindi direttamente tutelabile. Questo è importante. I nuovi diritti, diritto all'identità, all'oblio, eccetera, possono essere tutelati anche indipendentemente dall'intervento del legislatore che riguarda una disciplina e quindi la persona a tutela della sua dignità può andare direttamente davanti a un giudice e reclamare la tutela di questi diritti e il giudice, diciamo, deve interrogare la coscienza sociale di volta in volta per vedere se nuovi interessi che certe parti, diciamo, certi gruppi prospettano come esistenziali, lo siano a livelli già diffuso e generali tali da poter essere e questo è un lavoro difficilissimo. Io ricordo che la causa più difficile che abbiamo avuto è quella nella quale abbiamo dovuto verificare la costituzionalità della legge sulla fecondazione teterologa relativamente al problema se gli embrioni ammalati e non utilizzabili potessero essere utilizzati per l'indagine scientifica. Ci siamo risicolti che la comunità, la collettività era profondamente divisa tra la tutela della dignità dell'embrione in cui c'è il DNA di origine e l'utilità scientifica e noi come corte costituzionali abbiamo fatto un passo indietro pensando che finché la collettività non è matura, questa maturazione deve avvenire, spetta in prima battuta al legislatore rendersi e tradurre le norme. Quando poi il legislatore è assente in maniera ingiustificata, allora in qualche caso dobbiamo fare qualche passo avanti ma è sempre un andamento lento come diceva l'Episcopo.